Ciao amici, oggi vi parlo di una spazzola per pulizia viso e corpo di B-Power. Il contenuto di questa spazzola, per la cura della nostra pelle, contiene 5 testine. Spazzola viso, spazzola per il corpo, spugna trucco, utile per eliminare tutto il trucco, tutto, poi massaggiatore a rullo e testina esfoliante e poi contiene una borsettina dove poter mettere la nostra spazzola per la pulizia viso e corpo, molto comoda, con diversi scomparti, a due velocità, quindi facile da utilizzare, c'è bisogno di due batterie che non sono incluse nel pacchetto, due velocità, come vi ho detto, questa è la prima e questa è la seconda velocità. Ovviamente c'è bisogno di buone batterie nuove, belle cariche perché sennò non funziona adeguatamente, io preferivo che fosse elettrico perché aveva più potenza, però tutto sommato come prodotto non c'è che dire, insomma fa il suo lavoro, può essere utilizzato anche contatto con l'acqua, quindi ve lo consiglio questo prodotto di Beepower, alla prossima!